Musica Crisi idrica, sciacca, haicadetta le regole, ma non è in grado di garantire con celerità l'approvvigionamento sostitutivo con le autobotti. Questa mattina arresta davanti allo sportello dell'azienda idrica e utenti inferociti. Al serbatoio Sovareto, autobotti ferme in attesa del modulo e del codice necessari per consegnare l'acqua e far fronte alle richieste. A fine mattinata il servizio è ripreso anche per gli utenti senza allaccio con l'azienda idrica. Fondi delle PNRR per la sanità a distanza di due anni dalla fine dell'emergenza Covid. Si attende ancora la realizzazione di ospedale e case di comunità in provincia di Agrigento, domani in inaugurazione delle centrali operative territoriali. Si è conclusa ieri a Sambuca di Sicilia la prima edizione della Sagra del Tartufo, l'oro nero del territorio. L'iniziativa ha riscosso notevole successo tra momenti di degustazione, passeggiate nel bosco e la caccia al tartufo. Eccellenze agroalimentari di Sciacca, New York. Tra i celebri cartelloni pubblicitari di Times Square ha avuto spazio anche l'azienda ittico Conserviera Scalia, che sta partecipando ad una fiera internazionale del cibo di qualità. Grande partecipazione di pubblico all'Arena Giardino della Badia Grande per la presentazione del libro del medico Saccenze Nino Sandullo dal titolo Dai Vicole al Viale, racconti, aneddoti e personaggi della vita dei quartieri. Bentrovati anche oggi al nostro telegiornale. Gli annunci dei giorni scorsi sulle nuove metodologie per ottenere le forniture sostitutive di acqua si stanno purtroppo scontrando con la dura realtà. AICA non è in grado di garantire i tempi celeri necessari per far fronte all'attuale emergenza. A cascata tutto questo sta generando rallentamenti e la separazione dei cittadini. Molti di loro stamattina erano in fila allo sportello AICA di San Michele e intanto gli autobottisti non riuscivano a smaltire le richieste. Facciamo il punto in questo servizio. Malgrado gli annunci, AICA stamattina non è stato ancora in grado di garantire le forniture sostitutive di acqua. La generazione del codice ODI che identifica l'utente che necessita di autobotte si è rivelata farraginosa ma soprattutto tardiva. Stamattina nella sede Saccenze di AICA c'erano numerosi cittadini che protestavano. Sono loro che ci devono dare un codice, visto che io non sono allacciata, per dare l'ok all'autobotte di portarci l'acqua e poi accreditarci l'acqua in questo codice che ci danno. Io gli ho detto io sono disposto pure a darvi 500 euro per portarvi l'acqua, non è questo perché io mi allaccerò con voi. Ma se io sto una settimana in una casa in campagna non posso permettermi di stare una settimana senza acqua. Io mi metto nei panni pure di chi non ha i soldi per poter pagare un autobotte. Ma il problema non è che c'erano manco di soldi perché gli autobotti sono tutti bloccati. Sì a noi ci sembra strano tutto qua, noi siamo in vacanza, la viviamo un po' così, con leggerezza, però ci spiace per chi abita qua ovviamente, pensare tutti i giorni di dover razionare l'acqua ci sembra difficile insomma, anche strano insomma, siamo nel 2024. Sapere che è un bene primario che è l'acqua debba essere così quasi non richiesto, proprio pregato. Ci spiace proprio io, vedo che per noi è normale avere, quando siamo noi ad averlo, e avere i nostri diritti sembra una cosa totalmente semplice da ottenere. Qua è una lotta e quindi sembra proprio strano per l'acqua che è proprio un bene di prima necessità. Ci spiace proprio vedere questa situazione. Noi che siamo non del posto, con tutto il rispetto della situazione, del luogo e delle problematiche qui. Io sono qua ad aspettare il mio turno, ma è l'ora in giù oggi perché io chiamerò pure la polizia che già è venuta, dalle 10 in quarto che mi trovo qui, con una versione diversa dall'altra. Ci hanno dato un modulo dicendoci, se io non ve lo spiego voi non sarete nemmeno capaci di compilare i moduli. Richiamo Montalbano e guardi io ho detto, vedi che ho il modulo in mano, senza compilato, che cosa devo fare? Vieni subito alla sita e si dice che c'è un signore che vi sbrica le cose e vi portiamo subito l'acqua. Noi dice, alla sita non c'è completamente niente. Richiamo Montalbano e Venezia, noi ci siamo bloccati, non possiamo portare acqua perché non abbiamo il loro consenso. Nella tarda mattinata si sono sbloccati i codici, prima solo per le utenze già allacciate alla rete idrica, poco dopo anche per quelle non ancora allacciate. Le chiamate al numero telefonico dedicato a Sciacca stanno rivelando altri problemi. Ovviamente trattandosi di un numero soltanto è evidente che bastano due chiamate per ingolfare la linea. Ho chiamato ieri alle 7 ad Aica, mi hanno risposto subito. Un funzionario mi ha detto, signore, dice, non si preoccupi, basta che domani mattina alle 8 mi chiami che risolviamo subito la questione. Stamattina alle 8 io cerco di rintracciare Aica, sempre con lo stesso numero di telefono. Dalle 8 risulta essere sempre occupato. Fin qui la situazione a San Michele, che naturalmente a cascata ha generato conseguenze anche al lavoro dei titolari di società di autotrasporto di acqua, che stamattina a Sovareto, non avendo il codice, non potevano lavorare. Non siamo fermi, siamo in attesa. O di un ode che è un numero autorizzativo da parte dell'Aica, quindi tu vieni qua e la dai all'operatore e quindi ti autorizza a caricare. O quella benedetta famosa, modulistica, che dovrebbe arrivare stamattina per caricare per quelli che non hanno all'accio Aica. Quindi siamo bloccati qua. Se loro non rispondono, noi da venerdì pomeriggio, che ci siamo fermati alle 3, sabato mattina, abbiamo lavorato fino a verso l'1, l'1.30 e poi abbiamo entrato i camion dentro perché avevamo le richieste, come oggi, un sacco di richieste, ma non ci sono autorizzazioni per poter caricare. Perché sabato mattina ancora questo sistema non era ancora vigente e quindi voi lavoravate alla vecchia mattina. Poi siamo andati pure al prefetto venerdì, che abbiamo avuto l'incontro, dove ci hanno detto questi famosi moduli. Lunedì mattina avete questi moduli. Non c'è nessun modulo ancora. La gente chiama, chi è arracciato non risponde al telefono, quindi non possiamo fare forniture. Io ho il telefono a 24 ore al giorno, non ce la facciamo più. Troviamo un punto d'incontro perché così creiamo solo disagi, anche volendo lavorare non possiamo. Situazione critica anche a Canicattì, dove il presidente del Consiglio Comunale, Domenico Licata, ha chiesto all'amministrazione di riferire urgentemente al Consiglio Comunale sulla situazione idrica nel comune di Canicattì e il suo sistema di approvvigionamento sia attraverso AICA che con il sistema delle autobotti private. Pare infatti che anche a Canicattì si assista ad un blocco del servizio di approvvigionamento idrico tramite appunto i privati. Sono ancora gravi le condizioni di Miriam Ianale, la 23enne alla guida della Fiat Punto, che è finita contro il guarda rail la notte tra sabato e domenica sulla Palermo Schacca all'altezza di Giacalone. Nell'impatto sono morti il figlio di 16 mesi, Rahim, e una sua zia, Selma Helmohakit, 20 anni. Le due vittime erano sul sedile anteriore della vettura e sono stati sbalzati fuori dopo uno scontro violentissimo. Gli esami tossicologici eseguiti in ospedale hanno accertato la presenza di un tasso elevato di alcol, quasi il triplo rispetto al limite consentito. Il dato confermerebbe che la giovane alla guida avesse bevuto durante la serata trascorsa a Palermo. Nell'auto viaggiava anche un'altra donna di 20 anni, incinta, seduta dietro, che è rimasta ferita, ma le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. E' stato denunciato per favoreggiamento aggravato e minaccia a pubblico ufficiale un 27enne di San Biagio Platani che è andato in escandescenza all'interno dell'ospedale Giovanni Paolo II. A richiedere l'intervento delle forze dell'ordine sono stati sanitari e il giovane avrebbe minacciato medici ed infermieri presenti e si sarebbe scagliato contro alcuni arredi danneggiandoli perché gli sarebbe stato impedito di accedere al reparto dove era ricoverata la compagna. Un francese di 60 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato di Sciacca. Su di lui gravava un mandato di cattura europeo a seguito di una condanna a suo carico pronunciata da un tribunale transalpino per reati sessuali. L'uomo si trovava in spiaggia insieme alla moglie. Era stata accertata la sua presenza sul territorio comunale agrigentino. Gli agenti lo hanno individuato e sottoposto al provvedimento restrittivo, conducendolo poi nel carcere di Sciacca in attesa delle procedure di estradizione. Avrebbero minacciato di morte un'intera famiglia, padre e madre con due figli minorenni con lo scopo di fargli abbandonare la casa in cui vivono e impossessarsi dell'immobile. I carabinieri del comando provinciale di Agrigento hanno arrestato tre persone con le accuse di rapina, estorsione e violenza privata, danneggiamento e violazione di domicilio. Si tratta di Gabriele Minio, 36 anni, di Raffadali che è stato tradotto in carcere e di Giuseppe Casà, 28 anni e Samuel Donzì di 23 anni entrambi di Agrigento che sono ai domiciliari. Una quarta persona, un minorenne di Agrigento è indagato a piede libero. I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Palermo, con il supporto dei militari della compagnia di Mazzara del Vallo, a conclusione di un'ispezione igienico-sanitaria eseguita presso alcune attività commerciali del Mazzarese, hanno sequestrato quasi una tonnellata di prodotti ittici per un valore complessivo di circa 40.000 euro ad un'azienda operante nel settore. La merce in vendita sarebbe risultata in difformità alle norme di autocontrollo, basate sui principi del sistema HCCP senza l'attuazione della tracciabilità che garantisce la sicurezza della filiera alimentare. Oltre al sequestro, i carabinieri hanno elevato una sanzione di 3.500 euro al legale responsabile dell'attività. Saranno inaugurate domani mattina le centrali operative territoriali della provincia di Agrigento. per quella sanità di prossimità che era stata delineata e finanziata con ingenti e risorse del PNRR durante il Covid. Sono passati due anni e ancora si aspetta la realizzazione degli ospedali e le case di comunità. Sentiamo. A due anni dalla fine dell'emergenza Covid si attende ancora alla realizzazione di quelle strutture che avrebbero dovuto garantire una migliore assistenza sanitaria di prossimità. In provincia di Agrigento saranno inaugurate domani mattina le centrali operative territoriali che erano state a suo tempo previste e finanziate nell'ambito delle ingenti risorse del PNRR. Sarà il direttore generale dell'ASP Giuseppe Capodieci ad illustrare le potenzialità delle COT per una sanità più vicina ai bisogni delle persone, assicurando continuità tra assistenza ospedaliera e territoriale. Nel corso della conferenza stampa è previsto un collegamento telematico con le sedi delle centrali di Agrigento, Licata, Ribere e Canicattì. Tutto ancora talce invece per le famose case di comunità. Ne erano previste 19 in provincia di Agrigento strutture da dedicare all'assistenza capillare nel territorio per evitare che si faccia esclusivamente ricorso agli ospedali. Le case di comunità hanno come obiettivo quello di diventare il punto di riferimento continuativo per la popolazione, un punto unico di accesso, accoglienza, informazione e orientamento del cittadino che opera in stretto contatto con le centrali operative territoriali. A due anni dalla conclusione dell'emergenza sanitaria, i progetti delle case di comunità in 19 centri agrigentini sono stati approvati solo nello scorso mese di marzo. Ritardi che hanno portato l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali a sollecitare una rapida attuazione del piano che era stato predisposto per migliorare la sanità avvicinandola ai cittadini. I fondi del PNRR tra l'altro impongono una tempistica particolarmente rigida e infatti si sta correndo ad esempio per attivare i tre ospedali di comunità che sempre nel piano messo a punto a seguito dell'emergenza Covid erano previsti a Santa Margherita Berice, Agrigento e Bivona. Dopo le centrali operative territoriali saranno attivati prossimamente due dei tre ospedali di comunità previsti in provincia e il caso di Agrigento, mentre la struttura che è prevista a Santa Margherita Berice sarà momentaneamente realizzata a Sciacca. Nel comune Bericino infatti è appena all'inizio l'ITER che dovrà portare alla realizzazione dell'ospedale da 20 posti letto nei locali già nella disponibilità dell'ASP ma che devono essere adeguati. Cioè il progetto esecutivo va realizzato entro marzo del 2026. Nel frattempo l'ospedale di comunità dovrebbe essere aperto a Sciacca. Tutto ciò nonostante le ingenti risorse stanziate nell'ambito del PNRR, più di 300 milioni di euro destinati alla Sicilia per 43 ospedali di comunità, 156 case di comunità e 50 centrali operative territoriali. Siamo all'alba per non parlare delle risorse umane e professionali che saranno necessarie per garantire l'operatività di queste strutture da affidare a personale sociosanitario e infermieristi. Il parco della rinascita Ribera è stato danneggiato da un incendio che ha devastato il sottoposco e le piantine che recentemente erano state piantumate e messe a dimora. Il fuoco sarebbe partito dall'interno del parco, pertanto sarebbe stato volontariamente acceso da qualcuno per motivazioni che restano scure. Il parco della rinascita Ribera è un progetto che era stato affidato agli scout del clan l'RSEA del gruppo Agesci Ribera 1, un'iniziativa che aveva previsto la riqualificazione e la pulizia del boschetto. Scout e amministrazione comunale di Ribera che chiedono maggiore rispetto e tutela per gli spazi pubblici e che affermano che il parco della rinascita sarà nuovamente sistemato e abbellito. Degrado al cimitero di Sciacca nuovamente in primo piano. I consiglieri Raimondo Brucculeri e Maurizio Blò hanno oggi presentato una interrogazione all'amministrazione comunale. Sentiamo. Da anni ormai si assiste ad uno stato di degrado al cimitero di Sciacca. Sulla questione oggi intervengono con un'interrogazione all'amministrazione comunale i consiglieri Raimondo Brucculeri e Maurizio Blò per ciò che concerne la problematica della carenza di loculi ma anche le condizioni igienico-sanitarie. Sono tantissime le barre in attesa di tumulazione nei locali del deposito ma adesso con le elevate temperature estive si pone anche il problema dell'odore nausea bondo per i familiari dei deceduti che vogliono andare a portare un fiore. Alcuni hanno avuto anche dei malori. Alla perdita dei propri cari, dicono Brucculeri e Blò, si aggiunge la beffa di non riuscire a dare loro una degna sepoltura a causa dell'ormai cronica carenza di loculi. C'è poi una condizione generale di degrado che viene segnalata nell'interrogazione aggravata dalla carenza di pulizia all'interno del cimitero con i contenitori che sono stracolmi di fiori secchi missi ad altri rifiuti. Questo ad onor del vero dipende anche dai cittadini perché sono stati collocati nuovi contenitori e differenziati per tipologia di rifiuti ma non sempre le regole vengono rispettate. I due consiglieri infine evidenziano come in alcune zone non sia stata ancora effettuata la scerbatura. All'amministrazione comunale viene chiesto di garantire una più accurata pulizia e di risolvere il problema della carenza di loculi anche ricorrendo allo strumento del project financing. Alvia da oggi gli orali dell'esame di maturità con le commissioni che esamineranno al massimo 5 maturandi al giorno. La commissione valuterà sia la capacità del candidato di cogliere i collegamenti tra le conoscenze acquisite, sia il profilo educativo, culturale e professionale dello studente. Si terrà conto inoltre delle informazioni inserite nel curriculum dello studente nello scrutilio finale. Il consiglio di classe attribuirà il punteggio per il credito maturato nel secondo biegno e nell'ultimo anno fino ad un massimo di 40 punti. La valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico. Il voto finale dell'esame di Stato è espresso in centesimi. Massimo 40 punti per il credito scolastico, 20 punti per il primo scritto, 20 punti per il secondo scritto e massimo 20 punti per il colloquio. La commissione può assegnare fino a 5 punti di bonus per chi ne ha diritto. Dalla somma di tutti questi punti risulterà il voto finale dell'esame. Il punteggio massimo è 100, c'è la possibilità della lode, mentre il punteggio minimo per superare l'esame è di 60 centesimi. Nei comuni dove si è votati per il volo e il ballottaggio invece gli orali cominceranno tra qualche giorno. Adesso torniamo a parlare della festa del tartufo che si è conclusa ieri e con successo a Sambuca di Sicilia. Queste immagini sono di ieri mattina, ritraggono l'annunciata passeggiata tra i boschi che circondano l'abitato di Sambuca di Sicilia dove è stata effettuata una dimostrazione di ricerca e cavatura del tartufo, il cosiddetto oro nero a cui il sindaco Giuseppe Cacioppo ha voluto dedicare una festa che si è conclusa proprio 24 ore fa. Festa del tartufo, manifestazione promossa dal comune Borgo dei Borghi che dopo il successo delle case un euro adesso sta puntando anche su promozione e valorizzazione di un prodotto dell'eccellenza agroalimentare che è appunto ad ampliare i menù dei ristoratori che potranno conquistare nuovi clienti tra quelli che fanno parte del turismo enogastronomico. Noi siamo della provincia di Mistina, caviamo e trasformiamo tartufo. Ma c'era una tradizione qui dalle nostre parti di tartufo? Allora Sambuca è stata nominata città del tartufo, no, perché particolarmente locata. Noi siamo anche cavatori, per noi Sambuca è un ottimo posto dove cavare tartufi. La cavatura è il sistema corretto? Sì, con il cane si va per boschi, senza il cane, senza l'usilio del cane non si può fare. Questa tradizione nasce da una passione insita nei funghi in generale. Due anni fa ho iniziato a esplorare i boschi e poi per scommesso l'anno scorso maggio ho comprato bibi, i miei cani da tartufi che dopo un pochissimo tempo già avevo capito il suo potenziale. Allora mi sono completamente abbandonato a questa passione e l'ho fatto diventare un lavoro. Presenta la manifestazione di Sambuca anche Antonella Barbadoro, direttrice dell'Associazione Nazionale Città del Tartufo. Io amo definire l'Italia non divisa fra il nord e il sud, ma fra aree interne e aree di mare. Quindi anche le aree interne devono trovare un motivo identitario per attrarre il turismo sostenibile. Sambuca lo sta facendo insieme a molte altre realtà siciliane che hanno saputo attrarre l'interesse delle 15 regioni che sono socie delle città del tartufo. Ieri il gran finale della festa del tartufo tra degustazione, aperitivi, show cooking, fiera, zabbinate e spettacolo per bambini. Un evento che si inserisce all'interno dell'affermazione in Sicilia di un'autentica cultura del tartufo ed è proprio per assecondare questa tendenza che nel 2020 la regione ha approvato una legge, la numero 35, che contiene specificamente norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi. Pochi giorni fa è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il regolamento che dà il via libera all'attuazione della legge. Parliamo adesso di eccellenze agroalimentari a New York. Tra i celebri cartelloni pubblicitari di Times Square ha avuto uno spazio anche l'azienda etico-conserviera Scalia di Sciacca, che per il 22esimo anno è presente ad una fiera internazionale del cibo di qualità. Sentiamo. Eccoci a Times Square. Eccolo. Eccolo. La piazza più bella del mondo. La vetrina tra le vetrine più importanti al mondo, quella a disposizione dell'azienda etico-conserviera Scalia di Sciacca, con il capostipite Benedetto, che ha imperato a Times Square, una delle principali piazze di New York, simbolo di modernità, centro nevralgico e icona paesaggistica della Grande Mela, dove cartelloni pubblicitari animati e digitali la fanno da padroni. Un'opportunità sicuramente molto interessante che esalta la tradizione della città di Sciacca, con l'ennesima partecipazione della premiata e rinomata Ditta Scalia, al Summer Fancy Food Show della metropoli statunitense, dove le eccellenze agroalimentari di tutto il mondo, da ieri fino a domani, trasformano il Javits Center nel più grande evento commerciale del Nord America. Il padiglione italiano è il più ampio di tutta l'area internazionale, con oltre 300 imprese presenti, sotto l'ombrello dello slogan The Extraordinary Italian Test, lo stand della Ditta Scalia, il numero 1850, ad accogliere i visitatori, i fratelli Baldo e Maria Scalia. Questo appuntamento non è la prima volta che voi siete presenti. Per noi il 22esimo anno che partecipiamo alle Fancy Food Summer Show, che è una delle più importanti fiere internazionali qui negli Stati Uniti. È un appuntamento che sinceramente non vogliamo mai mancare, perché ci dà una visibilità importante per la nostra azienda. Una visibilità importante, non possiamo non ricordare che voi, tra i tanti paesi del mondo dove siete presenti, gli Stati Uniti è un mercato importantissimo. Oggi gli Stati Uniti rappresentano per noi, insieme al Giappone, il primo mercato per l'azienda. È un motivo di grande soddisfazione, che dopo tutti questi anni di grande dedizione ci abbiamo creduto e ora la gente comincia a vedere il brand Scalia. Siamo molto curiosi di questo. Ci ricorda un attimo con quali prodotti siete presenti in questo mercato americano? Allora, la nostra produzione è molto ampia, quindi parliamo a 360 gradi tutto quello che è il mondo dell'acciuga, quindi dall'acciuga salata al filetto di acciuga in ole extravergine, non arriva che è quello che va di più nel mondo dell'America. Non voglio dimenticare, non per ultimo, la collatura di Alici, che negli ultimi anni ha avuto un grande successo quello qui nel mercato americano. Quanto conta per voi raccontare anche il territorio, la storia di cui siete custodi, che corrisponde a quella di Sciacca? Per noi, in primis, è stato sempre il nostro obiettivo principale, valorizzare Sciacca, valorizzare la nostra terra, la nostra Sicilia, dove ogni singolo prodotto, dove vendiamo in giro per il mondo, menzioniamo Sciacca e siamo veramente felici di farlo e continuarlo a fare. Al via questa mattina Sciacca è il Grest interparrocchiale che vede la partecipazione di oltre 350 bambini di diversa età coinvolti nelle attività ludiche e nei laboratori. Ieri sera la celebrazione della Santa Messa e poi la consegna delle magliette ai bambini, agli animatori e volontari che gestiranno quest'anno il Grest interparrocchiale. Nella spiaggia della Tonnara questa mattina è stato dato il via alle attività che si svolgeranno per due settimane. Il Grest, organizzato da tutte le parrocchie della città di Sciacca, si concluderà il 7 luglio. Le sale cinematografiche siciliane soffrono con un trend di presenza in calo del 30% rispetto al 2019, l'anno prima della pandemia. Si è acceso un faro sullo stato di salute delle strutture destinate al grande schermo, sopravvissute nel post-Covid grazie alle linee di intervento ministeriali e regionali. Al secondo convegno regionale organizzato da Anec Sicilia, sala cinematografica, quale futuro, prospettive e proposte che si è tenuto stamane a Palazzo dei Normanni con esercenti, esperti del settore ed esponenti istituzionali. Incontro al quale è stato presente, tra gli altri, anche il saccense Sino Cariacappa, gestore della multisala Badia Grande di Sciacca. Vi proponiamo un interessante frammento del suo intervento. Si sapeva che c'era stato lo sciopero degli sceneggiatori americani e che quindi non sarebbe uscito il prodotto di punta che è quello che ha risollevato le sorti dell'estate del 2023 e che ha contribuito a lanciare un trend fortemente positivo. Si poteva sicuramente pensare a una politica di sostegno del cinema italiano e del cinema europeo, evitando il grande blef del cinema revolution del 2024 e quindi pensare che queste risorse potessero essere messe in un momento diverso, molto delicato, che da febbraio in poi ci vede letteralmente piangere. E ripeto, piangere, perché quando noi vediamo che la media per sala di certi film è di 800-900 euro, ditemi voi come fa una sala a essere sostenibile dal punto di vista dei costi. Noi dobbiamo guardare in faccia la realtà. Probabilmente, ripeto, c'è una situazione tale per cui non si comprende l'emergenza, soprattutto al Sud, di una situazione che ha visto letteralmente gli imprenditori farsi in quattro per riuscire a tenere su il rapporto con il pubblico, che però in un momento in cui c'era bisogno di un sostegno, di promozione, di interventi, siamo stati lasciati soli. La verità è questa. Cos'è andare al cinema in Sicilia adesso? Andare al cinema in Sicilia rimane un'esperienza lasciata all'iniziativa coraggiosa, e qualcuno sostiene visionaria, dei singoli imprenditori, che nonostante tutti gli sforzi e in totale assenza di misure regionali di supporto, non riescono a fare fronte alla ripresa. naturalmente dopo gli interventi del post-covid. Non si riesce a fare fronte alla ripresa e ovviamente non si riesce a colmare il gap in termini di presenze e in termini di incassi con la media nazionale. Si è parlato di tecnologie innovative per il trattamento delle acque questa mattina a Ribere durante un convegno organizzato da Giuseppe Di Stefano. A relazionare due esperti del settore, Orazio Interdonato e Gianfranco Sacco della Terminter, un'azienda siciliana leader nel settore della depurazione delle acque e dell'ambiente. Sentiamo il servizio. Sfruttare le tecnologie per il trattamento delle acque e per mitigare gli effetti della gravissima crisi idrica in atto sul territorio. Si è parlato di questo stamattina a Ribera durante un convegno organizzato dal riberese Giuseppe Di Stefano con il patrocino del comune del consorzio di tutela Arancia di Ribera DOP. In questo momento il nostro territorio si trova ad affrontare una crisi che non ha paragoni negli ultimi decenni, possiamo dire. Già abbiamo una severità idrica conclamata con sia emergenza declarata regionale ma anche emergenza declarata da un punto di vista nazionale. Il problema più grande è quello che non ci sono effettivamente soluzioni dirette per i nostri agricoltori. E quindi l'obiettivo di questo convegno organizzato sulle nuove tecnologie innovative è quello di poter dare una soluzione immediata ai nostri agricoltori con nuove tecnologie che possono dare una soluzione non solamente ad oggi ma una soluzione anche nel lungo periodo. Come sappiamo, la Sicilia non dovrebbe mai rimanere senza acqua proprio perché è un'isola bagnata da tutti i lati e ad oggi, nel 2024, ci sono effettivamente delle tecnologie che ci possono permettere di poter reperire queste risorse idriche di cui il nostro territorio ha effettivamente bisogno. e quindi oggi è stata una chiamata per la comunità per poter risolvere un problema più attuale molto attuale. Si è partiti dall'analisi dei dati che vedono il 2023 come il quarto anno consecutivo con precipitazioni al di sotto della media in Sicilia è andata ancora peggio nel 2024 e tale situazione sta determinando una riduzione delle risorse idriche a disposizione delle nuove province siciliane che oscilla tra il 10 e il 45%. Ecco perché occorre ottimizzare le risorse sfruttando le nuove tecnologie. A relazionare su questi aspetti sono stati il dottor Orazio Interdonato e l'ingegnere Gianfranco Sacco della Terminter, azienda leader nel settore del trattamento e depurazione delle acque e dell'aria. La crisi idriche attuale ormai con le fonti convenzionali cioè gli approvvigionamenti normali, gli approvvigionamenti dovuti al rutilizzo delle acque di depuratore ormai non è più praticabile. L'unica soluzione è a fare ricorso alla tecnologia la tecnologia che ci riporta gli impianti di risalazione. Nel tempo siamo nati, questa è una tecnologia che già viene sfruttata da tanti anni solo che negli ultimi anni è stata affinata nel senso che possiamo perfezionare l'impianto costruirlo, quindi progettarlo e dimensionare direttamente sulle qualità delle caratteristiche dell'acqua per aumentarne il rendimento e ridurne i consumi sia energetici che di approvvigionamento idrico. Tutto questo per andare a una tutela delle aziende che devono purtroppo lavorare in questo periodo siamo in carenza di acqua. Cosa ci vuole per realizzare tutto questo? Naturalmente sono opere che vanno progettate e poi finanziate. Certo sono opere che vanno progettate e finanziate ma soprattutto vanno progettate e dimensionate bene perché si può utilizzare uno standard costruttivo questo sicuramente sì però se entriamo nei dettagli caso per caso riusciamo ad ottimizzare questa tecnologia innovativa per aumentare il rendimento e ridurre i consumi energetici. Trattamento dell'acqua ovviamente di installazione chiaramente oggi ci sono delle nuove tecnologie che ci permette che lo stesso installatore può produrre energia elettrica e di conseguenza dare quello che ha un vantaggio di avere un impatto ambientale sempre più basso possibile sia a livello come che l'acqua di scarico diventa un vero e proprio generatore e perciò produrre energia elettrica e di conseguenza avere un impatto sull'ambiente che è sempre più basso possibile. Poi noi abbiamo anche la tecnologia brevettata che ci permette anche l'acqua in uscita che può essere arricchita con dei gassi nobili che possono dare anche dei vantaggi su quello che è il concetto dell'agricoltura. E veniamo ai libri Dai vicoli al viale è il titolo del libro del medico Saccenze Nino Sandullo che è stato presentato ieri sera all'Arena Giardino della Multisala Badia Grande davanti ad un pubblico numeroso ed attento che ha rivissuto la vita di una volta nei quartieri di Sciacca. Ha registrato una grandissima partecipazione di pubblico la presentazione ieri sera all'Arena Giardino della Badia Grande del libro del medico Saccenze Nino Sandullo dal titolo Dai vicoli al viale riverberi di memoria Un tuffo nel passato nella vita dei quartieri della città di Sciacca fatta di storie, aneddoti, personaggi A dialogare con l'autore è stata Flavia Verde che ha sapientemente avvocato un vissuto che fa parte del nostro bagaglio e che merita di essere tramandato I quartieri antichi di Sciacca come quello di Santa Caterina o per me quello di San Michele o per voi qualche altro quartiere dove siete nati e siete cresciuti sono così importanti e rimangono nella nostra memoria come qualcosa di incancellabile perché le persone perché gli odori perché le immagini di quello che è stata la nostra infanzia non ci abbandona mai il quartiere di Santa Caterina e i suoi personaggi Nino le strade i vicoli le case le orditure di una città di un quartiere ricordano e ci fanno ricordare ci riportano ad emozioni antiche emozioni che accendono veramente il nostro cuore per la semplicità la cosa più importante che io voglio enfatizzare in questo momento della vita del mio quartiere era l'inclusività viviamo in una società in cui c'è difficoltà all'accoglienza eppure noi eravamo fortemente accoglienti nel nostro quartiere i bambini, i ragazzi giocavamo tutti assieme dopo i compiti ci giocavamo per strada è stata affidata a Maria Grazia Catania la lettura drammatizzata di alcuni dei racconti che compongo nel libro ho visto le donne del mio popoloso quartiere rimbeccarsi tra di loro per strada, nei cortili, dai loro balconi a Lucannoro le sciarre erano molto spesse immotivate o per futile ragioni accattate come si soleva dire i peteschi erano tanti hai rimproverato il mio figlio hai buttato ciò poi qua di lato per strada mi hai sparullato con l'arri di Lisa e così via le donne non esitavano ad accapparsi per i capelli tra i vicoli esclamando e la fare fare un cicaturi oppure e nicca che ti faccia di colare lì a rune altre volte era affacciata al balcone o dinnanzi all'uscio di casa e guidavano a sparsagora a frasi come ti la dare la gorra stamattina pezzo di bimila l'orba in gesicchiera una raccolta di storie questo è dai vicoli al viale il terzo libro di Nino Sandullo che ha iniziato questo lavoro durante il drammatico periodo del covid vissuto sulla propria pelle quella di ieri sera è stata una festa anche a seguito del suo recente pensionamento una serata nel corso della quale la rievocazione delle storie dei personaggi e della vita nei quartieri è stata piacevolmente arricchita dagli interventi musicali di Nicola Lipari al violino e Leonora Artizzone al pianoforte di Renato Sanfilippo alla chitarra 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 si intitola le demenze possono essere sconfitte il libro del medico Paolo Libassi psichiatra, neurologo e tossicologo il quale sulla base di alcuni studi da lui condotti oggi dice che è possibile prevenire l'evoluzione più grave delle demenze ascoltiamolo nelle interviste di Massimo D'Antoni dottore Libassi come nasce l'idea di scrivere questo libro intanto? durante il covid siamo stati a casa io ci sono rimasto solo tre giorni dopo tre giorni dato che io ero medico sono stato chiamato di mattina alle sette da una signora di cattolica eraclea che telefonicamente in maniera agitata mi diceva che suo padre di 80 e rotti anni una persona robusta alta che era stato un mio paziente vent'anni prima e mi ha detto e mi ha detto corra il più presto possibile perché io la madre e mia sorella non riusciamo a sganciare le braccia dal collo di mia figlia di 16 anni ma quel signore che malattia aveva? una demenza senile quindi non riconosceva la ragazza ma ha riconosciuto me la voce perché era stato un mio paziente vent'anni prima e quindi ricordo anche a remoto in quel momento l'ippocampo non era stato toccato completamente come arriva lei a dire che le demenze possono essere sconfitte? evidentemente avrà fatto degli studi scientifici si attorno ai 55 anni i medici curanti dovrebbero visitare o un familiare che si accorge che il proprio padre fratello sorella fa delle cose che non aveva fatto prima va porta il proprio congiunto dal medico curante il quale lo visita e lo manda da un esperto per poter intervenire se si interviene in tempo la demenza non procede quindi lei sta dicendo che la demenza è una malattia prevenibile certo si sono spesi centinaia di miliardi esattamente 650 miliardi nel mondo per dei farmaci importanti sono farmaci anticolinesterasi in quanto si riteneva che la demenza avvenisse soprattutto per la mancanza di acidi colina che è un neurotrasmettitore questi farmaci hanno un effetto nel momento in cui tu becchi la malattia in fase predemenziale la prevenzione significa mangiare in maniera adeguata pesce prevalentemente le uova si possono mangiare le arance rosse la dieta mediterranea è fondamentale evitare gli zuccheri e tutti questi insaccati dopodiché utilizzare sostanze che abbiano la vitamina B la C la E la B9 l'acidoforico da una certa età in avanti soprattutto se c'è qualche avvisaglia adottare uno stile di vita diverso la prevenzione la docente scrittrice Saccenze Antonella Montalbano Verde è stata insignita agli esi nelle Marche di un premio di poesia nell'ambito del concorso a cui ha preso parte intitolato l'arte in versi in particolare la professoressa Verde ha ottenuto riconoscimento per la lirica lo sconfinare imperterrito dei giorni tratta dalla sua raccolta tuttora inedita riverberi e iconografie di senso la luce oltre le tenebre che verrà pubblicata a settembre ci congratuliamo vivamente con l'autrice Festa di San Giovanni Battista a Lucca Sicula con un lungo programma di momenti religiosi tradizioni e musicali le iniziative prenderanno il via da oggi ma i momenti clou sono previsti per il prossimo fine settimana con la processione la tavolata di beneficenza e il concerto dei mille watt tribute band dei 883 vediamo il servizio tutto pronto a Lucca Sicula per la festa in onore di San Giovanni Battista manifestazione molto attesa da tutta la comunità in particolar modo dal comitato e da coloro che come è noto fanno parte della fazione dei San Giovannara i festeggiamenti prendono il via oggi giorno della natività di San Giovanni in mattinata è prevista la rappresentazione artistica dell'icona del santo in piazza Vittorio Emanuele mentre nel pomeriggio il simulacro del santo sarà accompagnato dai fedeli in chiesa madre per la solenne celebrazione eucaristica ufficiata da Don Gaspare Sutera i momenti clou si vivranno poi sabato 29 giugno e domenica 30 giugno sabato dopo la tradizionale alborata mattutina è prevista la processione di San Giovanni Battista per le vie del paese insieme alla banda locale le caratteristiche rigattiate uno spettacolo di luci laser ed effetti speciali e infine gli attesi giochi pirotecnici a cura della ditta la rosa fireworks sempre sabato sarà organizzata come lo scorso anno una tavolata di beneficenza dove chi vorrà potrà portare e consegnare alimenti e beni di prima necessità alle famiglie indigenti con inoltre la benedizione e la distribuzione del rituale pane benedetto domenica domenica ancora altri momenti ludici e di spettacolo nel pomeriggio in piazza animazioni giochi e balli per bambini mentre domenica sera il concerto dei mille watt una cover tribute band degli 883 di Max Fezzali per chi non potrà essere presente è prevista anche la diretta facebook sulla pagina social della Proloco di Lucca Sigula adesso la nostra rubrica sul libro da leggere Un sabato con gli amici è il romanzo più sorprendente di Camilleri pubblicato per la prima volta da Mondadori nel 2009 non è un giallo anche se l'ingombro di un cadavere non manca sono sei gli amici tre uomini e tre donne in carriera hanno trascorso insieme gli anni di liceo e università formano adesso una comitiva esclusiva rinsaldata da un lussuriare sostenuto dal cinismo e dall'ipocresia oltre che da un convulso ricambio di letti che disegna un puzzle da ricomporre e continuamente aggiornare gli amici si danno un appuntamento settimanale è la rimpatriata del sabato sera per una volta coinvolgono nel rito un compagno da tempo dato per disperso l'ospite è scomodo socialmente diverso è gay dichiarato è comunista non ha soldi deve arrangiarsi e soprattutto detiene fotografie pesantemente compromettenti per un componente del sodalizio viene trovato morto era caduto accidentalmente sporgendosi ubriaco dal parapetto del terrazzo si convenne il provvido tonfo aveva liberato la trista brigata chiusa e refrattaria che indisturbata poteva continuare a ravvolgersi su se stessa ma che aveva dato la spinta se spinta c'era stata un sabato con gli amici di andrea cammilleri edito sellerio la fair play di sciacca si è laureata campione regionale asi per la categoria esordienti a 7 una grande soddisfazione per tutto il sodalizio e per i mister giuseppe geraldi salvatore geraldi e salvatore mannino la fair play di sciacca infatti dopo aver vinto il campionato interprovinciale asi per la categoria esordienti ha trionfato nuovamente anche nella finale regionale aggiudicandosi il titolo di campioni regionali 2024 grande prova agonistica dei ragazzi che hanno superato prima il Valle d'Olmo in semifinale e poi la scuola calcio bisacqua sport nella finalissima di Palermo la Ippon Carate Lentini di Sciacca ha vinto due medaglie d'oro al prestigioso Roma Open League gara federale valevole per il ranching nazionale la società di Piero e Marco Lentini nel medagliere in questo posto con ben 272 società partecipanti e provenienti da tutto il mondo nel servizio spazio anche al podismo con gli appassionati in gara cattolica eraclea e al raduno di Fiat 500 che si è svolto ieri mattina a Sciacca sentiamo il servizio ancora una grande una grande prestazione nazionale per la Ippon Carate Lentini di Sciacca che ha preso parte al prestigioso Roma Open League terza tappa del circuito e gara valevole per il ranking nazionale la manifestazione si è tenuta presso il centro federale Palla Pellicone di Ostialido con il coordinamento delle federazioni riconosciute EKF VKF e Filcam la società guidata dai maestri Piero e Marco Lentini ha conquistato ben due medaglie d'oro con le atlete di punta Irene Marturano ed Emma Colletti entrambe per la specialità Kumite e per la categoria Under 21 niente da fare invece per gli altri atleti in gara ossia Calogero Turturici Gioia Gulotta Nicolò Alfano Irene Scaturro e Virginia Arcilesi che comunque hanno superato due o tre turni operatori grazie ai piazzamenti conquistati la Ippon Lentini ha anche centrato il sesto posto finale nel medagliere su ben 272 società partecipanti all'evento risultato che ha dato grande soddisfazione ai tecnici Piero e Marco Lentini e passiamo alle auto il coordinamento di sciacca del Fiat 500 Club Italia ha riunito ieri appassionati provenienti da tutta la Sicilia nell'ambito di un raduno sponsorizzato dal club nazionale Piazza Angelo Scandaliato si è riempita di Fiat 500 di vario colore e modello con numerosi gadget donati ai vari partecipanti più di 100 Fiat 500 colorate hanno poi percorso le strade di sciacca in corteo con sosta presso la madre terra per un rinfresco l'iniziativa si è chiusa infine a Santa Margherita di Belice per il pranzo c'è stata una vasta e diversificata partecipazione con auto di notevole valore storico la diversità delle auto mostrate ha celebrato la lunga e affascinante storia della Fiat 500 un'auto che continua ancora oggi a catturare l'interesse di generazioni di ammiratori e chiudiamo con il podismo Michele d'Italia e Luana Russo sono stati i vincitori della seconda prova del Grand Prix provinciale che si è tenuto ieri a Cattolica Eraclea numerosissima la presenza s'accense dei due sodalizi Sciacca Running e Polisportiva Gatocle la Sciacca Running squadra più numerosa al Via con ben 26 atleti e 6 atleti per la Gatocle numerosi i podi oltre alla vincitrice Luana Russo Giuseppe Fara secondo nella categoria SM40 Sergio Termine terzo nella JM Fabio Ambrogio terzo nella PM Andrea Di Giovanna primo nella SM70 Domenico Piazza III nella SM55 Paolo Lazzara I nella SM80 Patrizia Rapisarda II nella SF55 e infine Rosaria Chiaramonte I nella SF65 La gara è stata organizzata dalla ASD Passione Corsa Memorial De Cicco cittadino di Cattolica deceduto nella tragedia di Ustica una bella manifestazione con le prime azioni che si sono poi tenute alla presenza del sindaco Santo Borsellino Siamo in chiusura di questa edizione del nostro telegiornale ancora una volta grazie e appuntamento alle prossime Grazie a tutti